Nei giorni scorsi Matteo Renzi, il premier, parlando alla Borsa di Milano, ha detto basta con il capitalismo di relazione e gli hanno fatto eco i capitalisti, ma questa è una realtà che ormai è finita da tempo, ho i miei dubbi, molti hanno dei dubbi, certo sarebbe molto giusto che finisse il cosiddetto capitalismo di relazione, detto in parole povere, almeno da quello che posso capire io, che sono un ignorante di molte cose, comprese questo e quel tipo di capitalismo per cui tu aiuti senza pensarci troppo delle realtà con le quali sei già in rapporto, magari le quali hanno delle sofferenze nella tua banca, però allora continui a finanziarli senza alzare il sopracciglio, mentre si arriva il povero tapino, magari l'industriale che ha delle idee geniali, ha dei progetti, ha dei dati alla mano, ha dei numeri, vorrebbe sviluppare una certa idea, mica ti preoccupi subito di dargli i denari per realizzare la sua idea, cominci a grattare, grattare, grattare su quelle che sono le garanzie di qui, le garanzie di là, le garanzie di su, le garanzie di giù, basta il capitalismo di relazione, oppure basterebbe che chi ha capitali da investire avesse anche la capacità di esaminare, analizzare veramente quelli che possono essere i progetti industriali che vengono presentati e non le garanzie o gli amici che possono stare dietro questi progetti industriali. a a a a a Grazie a tutti.